Sul sipario per la quinta giornata del campionato di promozione Girone B. Oggi quattro anticipi, c'è un derby tutto irpino, precisamente al Pignatelli di San Martino-Vallecaudina, tra i locali di Parisio e la bisaggese del duo Gervasio-Santoli. Il Montoro di Arnone, invece, al Pertini, si confronterà contro il Cimitire, mentre il Bellizzi di Quaglia vuole continuità sul difficile campo del Montesarchio. Sfida non irpina, quella tra Sambi Italiano e Castelpoto, domani tre i posticipi. In campo le due prime della classe, a Bellinum e carotenuto. L'Abellinum di Criscitiello, a Sperone, sarà atteso dal Baiano che non ha ancora vinto in questo scorcio di campionato. Il carotenuto di Bianco, invece, andrà Gesualdo in un vero e proprio big match, visto che i Gesaldini di Facchino sono terzi in classifica a meno due dalla vita. In campo anche il Solofra di Roccofiume sul difficile campo di Mano Calzati di Aguino, i Conciari con sette punti in classifica sono a meno tre e si confermano essere un battistrada del campionato di promozione Girone B.